chi è che voleva venire avanti, prego Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, grazie allora Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra ho scritto correttamente il Z4 Victor Quebec Sierra, è corretto? affermativo, affermativo guarda sto provando per la prima volta i 160 metri con una long wire 5,9 più 20 per te, QSL? sì, sì, io ho l'antenna messa bene ho l'antenna messa bene alta, ecco la mia è un Ford di riporo di 79 più 79 metri full size è anche doppio perché c'è la parte sotto che ripiega 79 più 79 quindi è un'antenna, è presa di latino orizzontale la mia antenna tra due colline sta a distanza dal suolo di 60 metri quindi per forza che arrivano i più 20 io mi sono arrivato dalla radio tu mi fai 9, mi fai 9 mi sono arrivato dalla radio ma capisci c'è l'efficienza dell'antenna l'antenna è molto alta è molto allora allora allora